Da circa tre mesi le dipendenti della società cooperativa sociale Ollus Pantarei, a causa della bufera giudiziaria che ha travolto l'Access, non ricevono lo stipendio. Da ieri le lavoratrici impegnate nel servizio di guardiania e pulizia presso il teatro Gesualdo e altre strutture comunali hanno proclamato lo stato di agitazione e l'attivazione della procedura amministrativa di conciliazione. L'effetto Access si abbatterà su una serie di cooperative a iniziare dalla gestione dei parcheggi in città con il personale che rischia di finire seriamente per strada. Sarà un autunno caldo per tutti i dipendenti dell'azienda Città Servizi, ha dichiarato il segretario generale della funzione pubblica CGL Marco D'Accunto. Intanto le lavoratrici di Pantarei ieri hanno fatto sentire la loro voce anche a margine del Consiglio Comunale. Lo Stato della Marca è una situazione che per voi della ditta Pantarei è diventata insostenibile perché da tre mesi non ricevete lo stipendio. Sì, da tre mesi. Comunque stiamo continuando a lavorare. Comunque noi alle 5 di mattina, che ci sono stati i saggi al teatro, siamo andati alle 5 di mattina e quando c'è stato il saggio, le colleghe hanno fatto pure le 3 di notte per chiudere. Perché noi dobbiamo chiudere pure il teatro, dobbiamo aprire e dobbiamo chiudere. Però sono tre mesi che non vediamo una lira. Tra l'altro voi siete impegnati nelle pulizie non solo del teatro ma anche di altre strutture. Sì, di altre come il Campoconi, Villa Mendola, Villa Comunale, Chiesa del Carmine, un po' con tutte le strutture del Comune. Cosa vi hanno detto? Come hanno giustificato? Allora, il commissario greco che sta alla CS ha detto che il procuratore gli ha detto che a noi non ci devono pagare perché ci sono delle anomalie nelle cooperative. Ma a noi non ci interessa, ci potrebbero pure essere le anomalie. Però a noi abbiamo lavorato e abbiamo diritto ai soldi. Noi che c'entriamo e che se la vedono tra di loro, a noi non ci interessa. E' una situazione che diventa sempre disperata perché voi avete famiglia. Sì, io sono divorziata, ho due figli e l'unico stipendio che entra a casa mia sono queste 500 euro e niente più. Tanto voi stamane siete venute a seguire il Consiglio Comunale con la speranza di aprire un confronto. Sì, certo, certo. Per vedere un poco com'è la situazione. Cioè, noi come dobbiamo fare? Dobbiamo andare dal sindaco per vedere se ci dà qualcosa da mangiare. Che cosa dobbiamo fare?